La verifica del programma, io ho una margianza solida, che in questi giorni si è anche meglio ristrutturata e addirittura allargata, quindi è più forte quantitativamente e qualitativamente. Ma siccome io credo nel Consiglio Comunale e credo nella forza della città anche attraverso il confronto tra chi non fa parte di questo progetto politico, se vogliamo dare un senso a questa verifica del programma, mi attendo negli interventi non solo dei Consigli di maggioranza, con i quali maggiormente chiaramente ci confrontiamo, ma anche dei Consigli di minoranza, un contributo della città e non solamente critiche senza manco leggersi o sapere le cose che facciamo, solamente propaganda elettorale, perché potrebbe essere sicuramente un palcoscenico per fare un po' di propaganda elettorale, quindi ho fiducia che invece questo Consiglio Comunale attraverso il lavoro delle commissioni, del Consiglio Comunale possa anche arricchire il programma dell'amministrazione, magari dare qualche suggerimento, poter dare anche qualche indicazione a cui non abbiamo pensato.